Buongiorno, dottoressa Medaglia, la ringrazio per essere qui, per il supporto che sta dando al progetto eSmart e per la presenza della sua intervista di questo pomeriggio. L'intervista durerà circa 4 minuti, la prima domanda che vorrei porle è di presentarsi brevemente il suo ruolo e le sue attività all'interno della provincia di Brescia. Buongiorno a tutti, io sono appunto Sabrina Medaglia e all'interno della provincia di Brescia mi occupo prevalentemente di progettazione europea e nello specifico con un taglio legato principalmente alla mobilità sostenibile, tant'è che buona parte dei progetti che come provincia di Brescia abbiamo portato avanti sono soprattutto su questa tematica. e mi occupo anche dell'aspetto turistico e statistico. Perfetto, ringrazio. Andiamo nel clou dell'intervista, se avrevi intervista le faccio la prima domanda che è relativa all'importanza del TPL, quindi il trasporto pubblico locale all'interno del territorio e delle difficoltà che si possono incontrare per quanto riguarda la diffusione e sostegno alla mobilità sostenibile. Prego. Vista la conformazione della provincia di Brescia che è molto ampia, sicuramente il fatto di avere un trasporto pubblico locale efficace ed efficiente fa sicuramente la differenza. Oggi la provincia di Brescia ha istituito un'agenzia del territorio per il TPL che sta appunto, diciamo, portando avanti un po' le sue attività ed è un'agenzia che vede tra i suoi soci provincia, il comune di Brescia e in minima parte regione Lombardia. L'intento è appunto quello attraverso questa agenzia di rendere più performante quello che è il servizio di TPL. Oggi da un punto di vista personale o comunque istituzionale come provincia possiamo dire che a mio avviso una delle criticità che io posso riscontrare o che ho riscontrato è quella che esiste ancora molto a frammentazione, nonostante ci sia un'agenzia che dovrebbe andare nell'ordine di unificare e rendere più sistemi con questo tipo di trasporto. Ma il trasporto anche in generale, voglio dire, non necessariamente solo il trasporto pubblico locale ma visto che stiamo facendo il focus su questo. E manca a mio avviso un piano di mobilità che rispecchi quella che è l'intera provincia. Magari abbiamo un piano della mobilità della provincia, un piano della mobilità del comune, comuni medio-grandi che hanno realtà completamente diverse. Una regia di coordinamento che dovrebbe assumere questa agenzia dovrebbe essere secondo me molto più proattiva e molto più ponderante. Poi ribadisco, questi sono un po' anche magari i pensieri di me di persone, quello che vedo anche da, oltre che da funzionario pubblico, anche come soggetto privato. Poi un altro deficit è un po' anche la carenza di infrastrutture o comunque infrastrutture non performanti o infrastrutture che ad oggi si auspica anche con l'arrivo del 5G, abbiano delle funzioni di digitalizzazione e di innovazione molto più determinanti su questo aspetto. Collegamenti anche difficili, se possiamo chiamarli così di ultimo miglio, mi viene da pensare a queste zone della provincia di Brescia molto periferiche, aree dislocate, perché comunque la provincia di Brescia come dicevamo è molto grande ma con realtà molto differenziate, penso alle zone di montagna piuttosto che a quelle dell'ultimo miglio dove è difficile dare un servizio e quel servizio di TPL lì è ancora molto ridotto. Un altro aspetto che secondo me è importante da prendere in considerazione del fatto che non si ragiona anche in termini di un trasporto condiviso, cioè il concetto di car sharing, car pool, è veramente forse quasi inesistente e non c'è mai stato neanche un approccio per fare un'integrazione tra quello che può essere il servizio di TPL e quello che può essere questo tipo di servizio. E non ultimo, visto che ho detto così, che comunque mi occupo anche di turismo, un'altra criticità, tra dopo ci sono anche le opportunità e le positività, però sono un po' quelle che possono essere le cose che potrebbero essere prese in considerazione riviste, l'aspetto turistico. Cioè noi come provincia di Brescia abbiamo veramente dei poli di interesse culturale molto molto interessanti e molto copiosi, che determinano ovviamente una domanda di trasporto turistico abbastanza elevata e anche lì secondo me c'è un po' di idea di ci sarebbe una cosa da prendere in considerazione. E chiudendo, poi magari passiamo all'altra domanda, il fatto che abbiamo bisogno di dati, dobbiamo raccogliere dei dati che ci permettono di leggere quello che è il nostro territorio, cioè conoscere per fare strategia. Se noi non abbiamo questi elementi ovviamente diventa sempre più difficile. Adesso ci auspichiamo che anche con l'arrivo di tutti questi soldi dall'Europa magari ci sia una particolare attenzione, ma Brescia si sta già muovendo in questa direzione, nel senso che la provincia di Brescia è anche parte di un tavolo di cui fa parte Camera di Commercio, Comune di Brescia, tutte le realtà veramente di stakeholder della provincia, che è il centro di sviluppo sostenibile, che ha come scopo, come mission, quella di fare un piccolo piano di recovery al loro interno per vedere quelle che sono le esigenze che si può andare a pianificare gli interventi. Perfetto, molto interessante, molto interessante davvero. La seconda domanda, brevemente, l'esperienza della provincia di Brescia, che appunto ovviamente divasta area, nel sostegno alla mobilità sostenibile, quindi a vostra best practices possiamo dire. Come provincia di Brescia, come dicevo prima, io mi occupo di fondi europei, ma abbiamo dato un taglio prevalentemente sulla mobilità, per cui abbiamo fatto diversi progetti, abbiamo partecipato a diversi progetti europei su un paio di programmi che hanno, alcuni li abbiamo chiusi, uno è ancora in essere, riguardano appunto la ricerca di quelle buone pratiche perché si riesca a dare un significativo cambiamento nel concetto di mobilità, mobilità che vada nell'ordine di tutelare, salvaguardare quello che è l'ambiente e quindi di anche modalità di energie alternative, di combustibili alternativi, che ok sono l'elettrico, ma come provincia di Brescia, una delle nostre best practices, è quella appunto di fare, stiamo facendo un'analisi anche sulle tipologie di alimentazione non solo elettrico, ma guardando anche all'idrogeno, in particolar modo un progetto che stiamo portando avanti ci ha portato a sperimentare e a fare tutta una serie di somministrazioni anche di questionari, dare anche coinvolgere gli stakeholder del territorio per quanto riguarda l'aspetto della navigazione, per cui la possibilità di introdurre le battaglie di idrogeno facendo una sorta di partenariato anche con le attività che stanno facendo altre realtà del territorio, non tanto sui batteli, ma invece su altre tipologie di trasporto che possono essere il trasporto su ferro, perché ad esempio altre realtà stanno ragionando invece in questa logica, per cui queste fonti alternative di alimentazione c'è con una logica appunto improntata all'abbattimento del CO2 che sono poi tutti questi obiettivi che stiamo cercando, che l'Europa in tutto il mondo sta portando avanti con la Commissione sul clima. Ecco, queste sono poi dopo, cioè ci stiamo muovendo anche su progetti che guardino invece più l'aspetto di utilizzo, di mobilità in car sharing, quello che dicevo poc'anzi, in alcune zone della Valle Camonica, sfruttando dei finanziamenti, delle progettualità finanziate dal Ministero dei Trasporti su un progetto casa-scuola, casa-lavoro, quindi disseminare questo concetto di utilizzo del mezzo, anche in forma aggregata, per abbattere comunque gli inquinamenti, la concessione del traffico e comunque conoscere realtà alternative alla classica mobilità, diciamo. Certo, certo, per questo è molto interessante. Io lo ringrazio per il sostegno e per l'intervista e spero di vederla nei prossimi eventi di Smart. Perfetto, grazie a voi e buon lavoro. Salve. Grazie a tutti.